Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 in direzione Genova ci sono code per lavori tra Carrara e Sarzana. Sulla FIPILI rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sulla Corda Autostrale Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla Statale 223 a causa di uno smottamento resta chiuso il tratto all'altezza di Campagnatico in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.